Nella giornata di ieri, personale della squadra mobile di Ragusa e del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza Iblea hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Federica Messina nei confronti di Domenico Caggeggi, 65 anni, palermitano, in atto detenuto in regime di custodia cautelare in carcere per i reati di usura e distorsione aggravata. Il provvedimento si inserisce nell'ambito dell'operazione No Problem del 16 novembre scorso al fine di individuare i beni, le somme di denaro ed altro e di cui il pregiudicato palermitano è risultato avere la disponibilità per un importo pari al valore degli interessi usurai lecitamente percepiti dalle vittime. L'attività accertativa svolta in collaborazione tra le due forze di polizia ha permesso di accertare che l'arrestato avrebbe riscosso all'esito dell'attività criminosa perpetrata, compensi usurai per un ammontare di circa 51 mila euro. Pertanto sono stati bloccati due conti correnti presso Intesa San Paolo e Fineco Bank per l'importo suindicato. Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad individuare altre vittime dell'attività criminale, nonché per quantificare il danno economico subito dalle stesse. Grazie a tutti.